Con Gennaro a Campora da ritiro di Santa Cristina, le tue impressioni a questo quarto giorno di ritiro? Sì, stiamo lavorando molto bene con il mister, poi al mio secondo anno che sono con questo allenatore quindi mi trovo molto bene con il suo lavoro, i suoi carichi, anche perché è un modo divertente e facciamo tutto con la palla. Allenarsi con la palla per un centrocampista come te, di tecnica, quali i vantaggi e quali possono essere i problemi? I vantaggi, come ho detto prima, è che correndo ci divertiamo sempre, anche perché avendo la palla qualunque giocatore, che sia un centrocampista o difensore, penso che si divertirà sempre di più con la palla. I vantaggi è che comunque, come ho detto prima, ci divertiamo. I svantaggi non credo ce ne siano perché facciamo comunque un lavoro aerobico molto sostenuto. Ecco, chi viene a vedere gli allenamenti intuisce subito che c'è una grande unità di gruppo. Sì, esatto, questa comunque credo sia la nostra forza, l'unità di gruppo che c'era anche l'anno scorso, uno sbagliato fantastico, delle persone veramente che si mettono a disposizione in tutto e credo sia uno dei nostri punti di forza anche di quest'anno. Piccolo e Catellani sembrano abbiano un po' adottato Gennaro Acampora. Sì, sono molto spesso con loro, come anche con Wande, però mi trovo molto bene. Sono delle persone fantastiche, ti aiutano in ogni momento e cercano di farti esprimere sempre al meglio. Ecco, lo scorso anno il tuo primo impatto con la B, quest'anno si cercano conferme e miglioramenti? Sì, cerco comunque di fare meglio dell'anno scorso, mi gioco le mie carte e mi metto a disposizione del mister. Ecco, nella tua breve ma importante carriera, ricordiamo l'esordio nella finale di Coppa Italia a Pisa, tu hai ricoperto un po' tutti i ruoli di centrocampo, anche esterno a sinistra. Ecco, il Gennaro Acampora dove si esprime meglio secondo te? Io credo che il mio ruolo naturale sia una mezzala, anche se a giocare a centrocampo non è che mi pongo dei problemi a giocare più basso, più alto, esterno. Ecco, tu arrivi nel ritiro di Santa Cristina dopo una vacanza un po' particolare, dove sei stato? Sì, sono stato in Thailandia dove sono stato veramente benissimo, dieci giorni ed è stato veramente molto bello perché la gente lì è molto cordiale, quello mi ha colpito tanto della Thailandia e nulla, veramente sono dei posti fantastici. Genna, il tuo desiderio per questa stagione? Il mio desiderio è superarmi in quella passata. Grazie, buon lavoro. Grazie.